Questo tizio, a me mi serviva soltanto questa notizia e quella cosa che mi ha detto, quando io l'ho pubblicato mi ha mandato un audio, ti prego, ti prego, ti prego, ma io sono andato avanti per la mia strada, poi ha chiamato tutte le redazioni, tutte possibili, ma ha chiamato anche il nostro amico Cruciani, ti prego fammi vedere, poi ha trovato un decerebrato che fa un programma, un podcast, che lo ha intervistato senza sapere chi fosse, cos'era l'indagine, cos'era l'inchiesta, questo è arrivato al carpellino. E ha negato tutto. E ha negato tutto, ma ci sono le prove oggettive, ma ha trovato uno che poverino ha cercato, come tutti, non lo nominiamo neanche perché è un poverino, di cavalcare la notizia. Allora, diciamo che noi...